Se la regione Lombardia si prende a braccetto la legge che abbiamo fatto noi sul reddito di cittadinanza, io veramente, io sono anche disposto a dire, l'ha inventata Maroni, prima di noi di notte lui andava tra un blues in do minore e l'altro, ha inventato questa cosa, allora è una roba che dovrebbero abbracciare tutti i partiti, perché non è una cosa del movimento, della destra, della sinistra, del centro, è ridare dignità un po' al senso del lavoro, delle cose, qui mi sembra che siamo organizzati benissimo, è una roba che è impressionante, allora non possiamo far pinta che 10 milioni di famiglie sono sotto la soglia di povertà, noi diamo un senso a questo, alla dignità, rimettiamo al centro.